Lancio, rimbalza e lo prendiamo Ma vedete che non deve rimbalzare! Capo bravo ormai, una te, capo una te Kinder insieme a casa continua oggi Tennis Chapanat Ricicliamo due bottiglie tagliate Abbiamo una pallina gommosa, l'abbiamo rubata bella al nostro cagnonino, adesso vi faccio vedere come funziona, pronti? Sì, sì! Sì, tutto insieme a casa! Guardate, guardate Lancio, rimbalzo e prendo Uno, due e tre! Insieme, il riscaldamento è finito Siamo pronti per la partita! Aspetta, prendo un attimo il cane che è il nostro giudice Sì! Un gioco un po' sporco, vai! Non vale! Non vale! Accetto! Ok, posso giocare io? Uno a uno Tre e quattro No! Hai vinto la mano, ragazza! Insieme ragazze, siamo stati bravi? Sì! Com'è stato? È stato meglio fare l'allenamento o la partita? La partita! È sempre meglio fare la partita, soprattutto contro papà Quindi papà, mi raccomando, provateci anche voi Potete personalizzare le regole Se siete bravi, fate le regole dei bambini Se siete scarsi come me, la regola dei papà Quindi alla prossima! Insieme a... Sì! 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 Grazie a tutti.